Questa è l'entrata dove ci stavano quelle due sedie davanti, entro, c'è un bel salone spazioso qui con le scale che vanno sotto e ci sta un piano e sopra ci sta diciamo solo il terrazzo dove ho fatto il video iniziale. Quella porta lì ci sono tre camere, ok intanto questo è il salone, ti faccio vedere intanto dove dormono mamma e papà, nonna Rosetta e Daria e zia Mary e zio Roberto. Entriamo qua, ci sta, ci sta eccola qui, rosette d'aria, il bagno, qui c'è sta la camera di mamma e papà, ciao Rosa, vai vai, vai culetta. Ok, bella spaziosa, il bagno, la porta dove sono entrato, camera di Rosa, nonna e Daria con letto a castello, nonna e Rosa sotto che è un po' più spaziosa e Daria sopra. Questa è la camera di zia Mary e zio Roberto, aspetta vediamo se, ok, zia Mary e zio Roberto, loro hanno un bel bagno, proprio figo, aspetta. Eccolo qui, entri, c'è sta, la vasca sta d'altro lato. Ok, scendiamo sotto, quello era lo specchio che rifletteva qua, va quindi o se va sopra, e si esce fuori dove stavo prima, io prima stavo qua sopra a fare il video che era un po' più alto, là dove ci mettiamo io e Marco. e qua di nuovo vista che si vede un po' di meno con tutti questi arberi davanti che sto più basso. però vi faccio vedere sempre la parte finale del piano terra, quindi le due cucine, noi siamo entrati da là, adesso andiamo, diciamo in questa prima cucina, di qua c'è stata una cucina e c'è stava un tavolo, ma sta fuori, una specie di cucina, quasi va fuori, e di qua c'è stata diciamo la cucina quell'aggibile, lasciamo fuori, oddio ho flasciato la rosetta e stava a beve da sola. Nonna, fai così ciao, sto mandando un video a Roberta, fai ciao così con la mano, Fai così, fai ciao, brava, brava. Ok, manca, che manca la parte, la parte sotto, magari la facciamo diretta ad un video. Da parco davanti sono grandi questi secchi, per esempio sta scritto gigantesco sopra, anche se poi i colori alla fine sono quelli eh. Allora, quindi andiamo sotto. Ecco, me l'ho ricordato, cazzo stanno le luci, questi due hanno fatto costruzioni casuali. Ok, non le ho accese tutte, sceso dalle scale, ci sta qui una specie di divanino, un altro divanoletto, aperto. L'ho sempre sceso dalle scale, ci sta qui il saloncino, con la parte diciamo letto mie e de marco. Qua c'è stata una cucina, forse nemmeno, sì, una cucina mai utilizzata. Qua fuori c'è stata parte dove non sono mai andato, però penso che quella parte di strada l'ho fatta all'inizio, sì, vabbè, lascia a perdere. Questa è divideva. Qua c'è un giro da star trovato per le scale. Fatto carino. Ah, pure il lampadaglio è carino, tipo è fatto a spacco, una cosa del genere. E sotto è... L'ha affatto strano. Ecco, forse così si vede la forma. Ok, qua c'è sta la sauna, che c'è pure la luce volando. Quella blu, che era quella soffusa. Vabbè, sta un po' di roba, due lavandini. Qua è fatto tipo tutto il legno. E qui c'è sta proprio la sauna. Però... Eh, non si vedrà mai in cazzo. Una sauna piccoletta. Poi c'è sta la doccia. Qua non è... Non c'è nulla perché copre davanti, però carina. E ci sta il bagno qua del piano sotto. Quindi un bagno piccoletto. Ecco, vediamo la doccia. E l'ultima parte è la camera, che era di 6 Vittoria. Beh, l'altra camera. Mora ci stanno Joy e Miriam. Maggi a Cristo. Ok. E qui c'è sta un'altra camera. Un po' più piccolino. Il tetto, cioè tipo Marco, qua non andrebbe preciso che ha la testa. Se addirittura non deve stacare la testa storta. E questa piccola porticella porta all'ingresso. Aspetta un secondo. No. La porta scoprivole. Stava sbragata. Quindi c'è questa porticina che porta dentro questa specie di merla che infatti penso che c'è la macchina non c'è per entrare. Sarebbe quella specie di porto da fuori che avevo detto se poteva mettere la macchina dentro, però a quanto pare no. Vole, Arturo dalla casa è andato. Che macchina? Abbiamo visto tutto. Si ritorna giusto sopra. Volevo spegnere sta luce pure. Ah. Vuole anche solo fare questa qua. Che è una luce. Se si vede cazzo. Eccola si. È rotonda. Ora spengo tanto. Ok. Allora è spento. Perfetto. Ci stavo. Ho spegnuto queste luci qua. Mamma mia. Bestia. Se risale sopra. Vole. E ci siamo. Andiamo a dare un saluto ultimo. A nonna e zio. Ciao culetta. Ciao nonna. Fai ciao rosettino. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao.